e la cosa positiva è che possiamo incontrare comunque i nostri amici positivo sicuramente il tempo che ho trascorso con la mia famiglia negativo per me è che sento la malinconia di negativo invece aver perso alcune persone a me care la cosa negativa è che le mascherine danno tanto fastidio ma io non vedo proprio niente di positivo